Ciao a tutti, mi è appena arrivato questo piccolo pacchetto da Polonia e contiene la nuova capezza per la Frizzi volevo appunto spacchettare questo piccolo acquisto insieme a voi come potete vedere la capezza è ben inserita questo è il sacchetto del negozio lo faccio vedere no, no, è il sacchetto dell'Opipur non so se si dice così, comunque ci ho provato ecco, questa è la capezza, adesso la tiro fuori questa è la capezza nuova, il colore è un color pesca almeno così c'era scritto nel sito purtroppo a vederlo dalla fotocamera sembra molto diverso da come lo vedo dal vivo dicevo color pesca, con questi dettagli cioè sarebbero dei piccoli pua e ha scritta escadron con le stelline questa capezza sarebbe della linea nici nici è una marca di peluche e sta già collaborando da qualche anno insieme alla escadron per fare capezze, coperte varie cose sotto sella per la monta inglese varie cose, sono cose molto carine e pucciose guardate questa piccola medaglietta che è davvero carina questo cavallino della nici è davvero bella non ho comprato la longhina perchè sul sito non c'era una longhina color pesca ma penso di farlo nei prossimi giorni e venerdì vi farò vedere come sta la capezza la cavalla vi ringrazio per aver guardato questo video ci vediamo al prossimo ciao